Come so adesso? Più pesante le tecniche Perché poi il colpitore che vi va incontro raddoppia l'impatto E allora si comincia a sentire molto di più Per adesso basta Quello che facciamo, lei me docca Uno, due Uno, uno, due Guarda adesso Qua lavoriamo tutto sulla struttura delle spalle E sul colpo E allora si comincia a sentire Perché se no Se andiamo sempre ai moschetti lì Che succede? Al primo colpo forte Il polso si piega e mi faccio male Ok? Allora e poi comincia a essere un lavoro di tonicità Fatico, fatico, fatico Allora adesso invece Torniamo un attimo al lavoro che dovete fare voi Le palette tutti quanti Veloci Allora le palette vi ricordate? Ci divertiamo un po' Le fascette non le avevate No, no, le pie là